Il N4 è un Caterfillar da quindici totellate, vogliamo fare un applauso ad Armando che adesso mi farà vedere cosa si può fare con un mezzo un po' di pesante e davvero poco versante. Guardatelo qua, allora grazie. Allora avete problemi di spazio a caso, giardino stretto dovete metterlo a posto, Armando viene su commissione e entra a due ruote, non ve ne accorgete neanche. Quindi naturalmente per i partiti più piccoli ha il Caterfillar, il Caterfillar di Rino, poi l'Occidentus ha di guadagnolo. Piccolo piccolo piccolo, piccolo piccolo. Va bene, grande Armando, intanto ce lo teniamo lì sullo sfondo Armando, vi raccontiamo anche un po' di cose perché Radio DJ è presente al Motolive come radio di supporto di tutto l'evento, noi tre vincere siamo qua sul palco, in terreno di aponia prima domenica, ovviamente ci alterneremo con gli speaker tecnici che invece entreranno nello specifico sulle discipline che ci saranno qua al Motolive. Dietro a noi, dietro al palco, ci ha posizionato il nostro studio.